Da oggi vi coprò prima quercia al centro storico e intitolato a Nina Moscati, sorella del famoso medico santo Giuseppe, che al fianco del fratello dedicò la sua vita all'assistenza dei più bisognosi. Non è un caso che il comune di Napoli abbia deciso di dedicarle una strada a pochi metri dal luogo in cui visse il fratello Giuseppe, aprendo con la cerimonia di questa mattina una giornata intera di iniziative dedicate a Nina Moscati. Non è un caso che abbiamo scelto questa giornata intitolando una strada a una grande donna, una donna cristiana, che ha fatto della fede la sua vita, ma soprattutto che ha impegnato la sua vita per la solidarietà e per il bene comune. Un bel segnale, ancora una volta, per come noi riteniamo di utilizzare la commissione toponomastica, cioè memoria affinché ci sia sempre di più lo stimolo all'impegno civile da parte di tutti. Presenti con il sindaco Luigi De Magistris e il cardinale Crescenzio Sepe, l'attrice Antonella Stefanucci che interpretò Nina nella fiction ride dedicata a Moscati ed il parroco della chiesa del Gesù Nuovo, dove dal 2009 Nina Moscati è sepolta accanto al fratello Giuseppe. Queste figure sono un richiamo per chi crede in valori umani, sociali, religiosi per dare il proprio contributo alla crescita, alla maturità delle nostre comunità. E quindi penso che l'augurio più bello è imparare a conoscere Nina Moscati e a imitarne anche le virtù in casa, nel lavoro, nella famiglia, nella società. Grazie. 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 Grazie.